Oggi siamo a Montesilvano per fare una manifestazione che abbiamo chiamato la marcia della solidarietà perché in questo momento ci sono ancora dopo i 20 case sgomberate di via Ariosto nessun appartamento è stato trovato per un solo inquilino di via Ariosto in questo momento sto parlando neanche un appartamento c'erano pure 20 ragazze che sono uscite dalle casse che avevano fatto la richiesta per l'asilo che in questo momento dormono in spiaggia a Montesilvano noi qua stiamo parlando di un provvedimento che è stato preso contro i proprietari di casa quindi quelli che sono stati sgomberati sono loro i vittimi quindi in questo momento penso che noi siamo anche per la legalità ma sono i vittimi che sono stati sgomberati i coupé quali sono i proprietari di casa Voi vi rivolgete al sindaco di Montesilvano chiedete comunque per quelli che sono rimasti senza un'abitazione di poter avere un tetto dove dormire la notte Esattamente noi chiediamo all'administrazione comunale di trovare delle appartamenti e di aiutarci a trovare delle appartamenti per quelli che sono stati sgomberati che sono anche disposti a pagare l'affitto quindi noi non stiamo chiedendo una casa popolare Ma gli sgomberi sono stati effettuati per ragioni evidentissime a tutela della pubblica incolumità compresa la loro incolumità il fatto che questi soggetti a distanza ormai di otto mesi da quando è stata emessa l'ordinanza continuino a manifestare sta a rappresentare la volontà di questi soggetti di farsi assistere e non di farsi aiutare L'amministrazione le ha allungato una mano ma per tutta risposta è stata presa schiaffi In che senso? Nel senso che gli abbiamo dato un tetto dove accudirli e dove stare Purtroppo da questa struttura alberghiera a Pescara sono stati cacciati perché consumavano stupefacente, spacciavano stupefacente e hanno danneggiato la struttura Chi in realtà ha voglia semplicemente di farsi assistere perché vuole continuare a gozzovigliare sul territorio del Comune, andando a danneggiare le attività economiche presenti sul territorio del Comune non avrà nessun aiuto dall'amministrazione Quelli che veramente vogliono integrarsi e vogliono realizzarsi su questo territorio avranno e continueranno ad avere la porta aperta Grazie